Ciao, mi chiamo Sidney e oggi con te montiamo il circuito dei super pigiamini. Guardate, qui c'è Gattoboy! Guardiamo che cos'altro c'è dentro. Sidney, guarda quanti pezzi per il nostro circuito. Montiamoli! Sì Gattoboy, cominciamo. Montiamo la strada dall'alto. Ecco fatto. Adesso montiamo la base di lancio. E attacchiamola al circuito. E adesso montiamo la parte di strada verde. Aspetta Gattoboy, non abbiamo ancora finito. Montiamo un altro dettaglio per far partire le macchinine. Questa parte è pronta. E adesso montiamo il museo. Sidney, è ora di montare il ponte. Certo Gattoboy. Adesso montiamo il ponte. Su questo segnale dobbiamo incollare l'adesivo. Mettiamo il segnale. Decoriamo il frontone del museo. E adesso le finestre. E adesso la porta. Il nostro circuito è pronto. Adesso possiamo giocare. Urrà! Andiamo! Pronti? Partenza! Via! Wow! Che velocità! Fantastico! Adesso proviamo a passare attraverso la porta del museo. Sono pronto! Andiamo! Che bella pista! Sì! La prossima volta invita gli altri super pigiamini. E a te piace giocare con la pista delle macchinine? Scrivimelo nei commenti. Ciao! Ciao! Ciao!